lunedì 15 maggio ore 21 e 30 pagina facebook luigi abbate consigliere comunale di taranto poi ovviamente verrà condivisa un appuntamento settimanale che avrò con massimo battista il collega consigliere comunale di una città per cambiare taranto una diretta facebook con la città affinché ci sia davvero questo rapporto diretto questo filo diretto tra la città e noi per dare risposte per ascoltare massimo penso che questo sia il modo migliore per unire le forze e per dare voce a chi non ha voce beh io come ho sempre fatto luigi lunedì chi vorrà potrà ascoltare quello che noi avremo da dire accetteremo anche le critiche e vorremmo che la gente capisse e ci è durante la trasmissione ci ponesse anche delle delle domande per far capire che noi siamo sul pezzo come dicevo possiamo essere anche i contrari luigi rispetto a quello che fa questa amministrazione però vorremmo anche che la città e i cittadini di taranto capissero dove ci sta portando questa amministrazione anche perché la gente massimo non ha la possibilità di essere ascoltata non riceve risposte vede la politica vede quel palazzo di città come un muro di gomma invalicabile noi vogliamo aprire aprire il le porte della democrazia le spanderemo le porte della partecipazione siamo stati eletti io e te in consiglio comunale per dare risposte ai cittadini e lo facciamo e nelle sedi istituzionali ma anche nel momento risponderemo a tutti luigi anche le critiche politiche mai sul personale perché di questo si tratta risponderemo a chi allora una bellissima una serie di di dirette facebook lunedì 15 maggio ore 21 e 30 vi aspettiamo